L'Uthval-Kanthival, limite dei terreni. Questo cippo in pietra è del tutto simile a quello che delimita oggi, nel terzo millennio dell'era corrente, il confine fra Italia e Svizzera al Piandorano d'Intelvi, a Lanzo d'Intelvi, in provincia di Como, dove ci si affaccia sul lago di Lugano. E ancora un cippo del tutto simile a questo del II secolo è oggi in funzione. Per dire siamo in Svizzera, siamo in Italia. Questo cippo dice siamo nel mio territorio, siamo nel tuo territorio. II secolo a.C., come dice la scritta, L'Uthval-Kanthival. L'Uthval-Kanthival, Letta Memorial, Letta Memorial, Letta Entscheidung, Letta donne viaggio, Grazie a tutti